Si è rinnovato oggi l'appuntamento con la tradizionale Befana dei Vigili del Fuoco di Perugia che ha scelto il quartiere di Ponte San Giovanni andando a visitare la residenza per anziani volumni. La Befana è salita non con lo scopa ma su una moderna autoscala fino alle finestre della residenza dove ciascun anziano l'ha attesa in piena sicurezza. Ovviamente è più che mai importante mantenerci coesi e mantenere anche delle relazioni di comunità, soprattutto alcuni di noi in questa fase hanno visto molto sacrificate queste relazioni e credo che anche con questi bellissimi gesti, con queste iniziative si riesce a stare ancora più vicini dei nostri concittadini a cominciare dagli ospiti di questa residenza. Durante tutto il periodo del lockdown credo che siano state le persone più penalizzate perché hanno dovuto subire l'isolamento, un isolamento che non gli ha consentito di fare le feste con i propri cari, anche tra di loro di vivere spesso in camera perché durante il momento in cui si fanno anche i tamponi c'è sempre quell'ansia, quell'attesa. E poi il fatto che i vigili del fuoco hanno accettato subito questa possibilità, la possibilità di donare attraverso un vigile del fuoco la calza dove dentro ci sono i ricordi anche della loro infanzia, perché è molto bello anche far ricordare agli anziani quella che è stata la loro infanzia, uno scandire del tempo, un tempo che per loro è passato ma che oggi è un presente credo importante.